Ciao bimbi, vi voglio raccontare la storia di gelato, ve la ricordate? È quella dell'asilo? E ora la raccontiamo insieme. Apro il libro e vediamo cosa succede. Il bimbo dice gelato! E il papà che cosa fa? Giriamo, giriamo e vediamo. Il papà dice no! Con il dito no! E allora capriccio giallo. Com'è il capriccio giallo? Vediamo un po' com'è il capriccio giallo. Gelato! 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 E il papà che cosa dice? Vediamo un po'. No! E allora cambiamo capriccio. Che colore facciamo? Facciamo il capriccio blu. E com'è il capriccio blu? Vediamo un po' com'è il capriccio blu. Guardiamo un po'. Gelato! 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 E il papà che cosa dice? No! Oh oh! Non funziona neanche il capriccio blu. E allora proviamo con un altro capriccio. Vediamo che colore usiamo. Capriccio verde! Com'è il capriccio verde? Vediamo un po'. Voi lo sapete com'è il capriccio verde? Eccolo qui! Lei gelato! Lui gelato! Loro gelato! Tutti gelato! Oh oh! E cosa dirà il papà? Vediamo un po' cosa dirà il papà. No! Non funziona neanche il capriccio verde. E allora cambiamo colore. E certo! Abbiamo altri colori di capricci. Abbiamo il capriccio grigio. E com'è il capriccio grigio? Vediamo un po'. Gelato! 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 E il papà cosa dice? No! Oh oh! Non funziona neanche questo capriccio. E allora cambiamo colore. Vediamo un po'. Capriccio rosso! Com'è il capriccio rosso? Uh! Il capriccio rosso è forte! È proprio da arrabbiati! Gelato! No! E si pestano anche i piedi. E si piange anche un po'. Così viene bene il capriccio rosso. E il papà cosa dice? No! E allora che cosa facciamo? Cosa facciamo? Al no del papà che dice sempre no. Li ho provati tutti i capricci. Giallo, blu, verde, grigio, rosso. Non ne ho più di colori per fare i capricci. E allora che capriccio uso? Vediamo che capriccio usa questo bimbo. Fa lo stesso. Fa niente. Non ha più capricci. E allora il papà che cosa fa? Il papà prende il bimbo per mano. E dove lo porta? Vediamo dove lo porta. A mangiare il gelato! Evviva! Senza capricci si ottiene tutto. Che bella questa storia! Vi è piaciuta? Domani ve ne racconto un'altra. Ciao bimbi! Ciao mamme! Vi racconterò ogni giorno le vostre storie preferite. Ciao! 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 Grazie.